Dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno perché abbiamo un ritorno in casa, contiamo sul nostro stadio, sulla nostra gente, siamo soddisfatti a metà, però dobbiamo avere la testa alta perché abbiamo avuto una grandissima reazione. L'ultimo ballo, l'ultimo sforzo, l'ultimo atto di una stagione interminabile. Si gioca tutto il Martina, si gioca la possibilità di brindare alla tanto desiderata promozione in Serie D, cercata ed inseguita per dieci lunghi mesi. Domenica arriva l'Acragas per la finale di ritorno dei play-off nazionali di eccellenza. Fischio d'inizio previsto alle ore 17.30 sul Prato del Tursi. Il desiderio è quello di avere uno stadio strapieno perché vogliamo festeggiare qualcosa di importante dopo quest'annata con il pubblico di casa, non lo diciamo per scaramanzia però ho detto, quest'anno in casa abbiamo fatto benino, quindi ho detto contiamo di avere il pubblico delle partite importanti che ci può dare una mano in più. Non vediamo l'ora che arrivi domenica perché abbiamo una grandissima voglia di riscatto e di regalarci qualcosa di importante. Si ripartirà dal 3 a 2 in favore dei siciliani al termine della gara d'andata, risultato tutto sommato accettabile per i pugliesi che non hanno perso la bussola quando si sono ritrovati sotto di due reti e hanno poi accorciato le distanze nel segmento finale di partita. Siamo stati bravi, siamo stati tranquilli, concentrati, non ci siamo fatti prendere dal nervosismo, abbiamo tenuto bene il campo, siamo riusciti a fare il 3 a 2, secondo me potevamo fare anche il 3 a 3, lo meritavamo però abbiamo giocato in un campo importante contro una squadra di giocatori importanti, categorie davanti a un bel pubblico, tutto sommato penso sia stata anche una bella partita. Un solo risultato può regalare al Martina la promozione in serie D, la vittoria contro l'Akregas nella partita più importante della storia recente bianca-azzurra, gli uomini di Massimo Pizzulli vogliono chiudere il cerchio e abbandonare il calcio di caratura regionale.